La donna separata o divorziata con figli ti risponde in chat. Ecco, se c'è una cosa che mi sono accorto di recente capita, ma anche nel passato, è che davanti a un uomo che la contatta una donna, una signora, quindi una persona di genere femminile, divorziata o separata, ma obbligatoriamente con figli, ecco che stranamente risponde all'uomo o al ragazzo, ok? Ecco, io oggi mi trovo qui per affrontare con voi questo delicato argomento, probabilmente è un argomento che ho già trattato, ma a me non interessa, voglio tornare a trattarlo di nuovo cercando di essere il più chiaro possibile. Allora, come già detto in tanti dei miei video, tantissimi dei miei video, in chat una donna o una ragazza non ti risponde, non ti risponde manco se l'ammazzi, ok? Ti risponde però se cerca soldi, se è interessata a te in quanto tu sei un lavoratore, è interessata a te se sei un bellissimo uomo, devi essere un Gabriel Garco virtuale che però poi si palesa e diventa reale, oppure hai comunque un bellissimo fisico prestante, ok? Ma oltre alle poche anzi citate categorie di donne che probabilmente rispondono, c'è anche un'altra categoria che esiste di donne o di ragazze che effettivamente parlando rispondono e lo fanno dopo pochi minuti di tempo. Questo che significa? Che se tu, uomo, tu ragazzo, vai a contattare una donna o una ragazza separata o divorziata e che ha i figli, obbligatoriamente ha i figli, ecco che probabilmente riceverai risposta a quello che tu andrai a chiedere e o a quindi domandare. Ecco, ma perché? Perché? Per quale motivo, per quali ragioni in genere una donna separata o divorziata, con figli, con prole al seguito, risponde a un uomo o a un ragazzo? Ecco, non perché quella donna o quella ragazza sia in cerca di un sentimento, non perché quella donna o quella ragazza voglia fottere, vuoi avere rapporti sessuali con te e quindi sei interessata al tuo reale augello, al tuo simpatico pistolino o, per meglio dire, alle tue simpatiche palle, ai tuoi simpatici testicoli, ai tuoi simpaticissimi testicoletti tondi, ok? No, a quella donna, a quella fanciulla, separata o divorziata ma con figli al seguito, non gliene frega un accidente di niente del tuo pistolino, delle tue palle, di come sei, ok? A lei interessa il lato economico, quindi tu come stai messo a livello economico, ma ancora prima sicuramente il fatto che tu puoi dare lei una mano, un aiuto, con i figli che ha. Questo che significa? Che la donna separata o divorziata con i figli molto spesso, ma non sempre, però secondo me nella maggior parte dei casi, si mette in un social network per cercare l'uomo, il maschio, che dia una mano con i ragazzi, con i figli che quella donna, quella ragazza possiede. Questo che significa? Che io donna e ragazza, bene, ho figli, sono divorziata o separata, bene, mi metto in un social come Facebook, come per esempio Badu, come per esempio, che vi posso dire, Tinder, eccetera, eccetera, con lo scopo, con l'obiettivo, con la finalità di trovare un uomo, un coglione, scusate la vulgarità, un coglione, che magari mi dia una mano con i figli. Quindi li vado a prendere a scuola, a catechismo, allo sport, quindi in piscina, in palestra, e ve li seguito, e che vado ad aiutarmi, de facto, di fatto, con le situazioni e con i bisogni, o meglio, con le esigenze che i miei figli hanno. Per figli intendo anche due o tre figli, o addirittura quattro, ok? Ecco, io donna e ragazza, se trovo un coglione, un emerito coglione, che mi fa questo, io mi ci vado a mettere. Ed ecco perché una ragazza, una donna con figli, in genere, ti risponde. Attenzione, non sto dicendo che sempre ti risponde, però rispetto alle altre che non rispondono neanche se le paghi, perché vengono sommersi di messaggi, se ti risponde subito, ci sarà un motivo, ci sarà un perché, ok? Cioè, se ti rispondi subito, c'è qualcosa sotto, ok? E se è una donna con figli, se è una donna con prole, il discorso, si capisce qual è, no? Lo fa per un aiuto che tu ragazzo, tu uomo, tu fanciullo, potrai dare lei, in quanto lei ha figli al seguito, ok? Ma ci avete fatto caso che molte donne scrivono, molte donne, parlo di donne con figli, scrivono nel loro profilo di Facebook, sono una donna con figli, cioè, nella loro presentazione, nei loro dati personali, mettono in sovraimpressione la frase Cerco, no Cerco, scusatemi, sono una donna divorziata con figli, con prole, sono una madre di due giovani figlioletti, di tre dolci figli, di un dolcissimo figlio, e via di seguito. Cioè, mettono già le mani avanti, così l'uomo, il coglione, il coglione di turno, sa che dovrà avere a che fare con i figli. Quindi, portarli di qua, di là, riprenderli di qua, non dico mantenerli, però magari dare una mano a livello economico è pure bene, è pure meglio, però poi, eventualmente, si potrà andare a quagliare, si potrà andare a inzuppare il biscotto lì, nella marmellata, lì, dove non batte sole, ok? Però, tu uomo, tu coglione, tu emerita a testa di cazzo, tu esimi a testa di cazzo, devi essere all'altezza della situazione, e quindi devi prendere i miei figli a scuola, devi portarli via dalla piscina, al basco, dal nuoto, tutto il resto, ok? E questo facendo delle supposizioni, delle ipotesi, non so se queste ipotesi sono corrette o no. A scaso di qui, vi dico, vi informo che questa è la mia opinione, il mio punto di vista. Grazie dal vostro Leandro, conosciuto l'italiano, iscrivetevi, commentate, un saluto nel canale da Leandro, al prossimo video.